1 e 16 minuti, buonasera, ultima edizione del nostro telegiornale. Polemiche il giorno dopo l'attentato a Londra. L'assalitore Usman Khan era stato condannato nel 2012 a 16 anni come membro di un gruppo vicino ad Al-Qaeda che progettava attacchi alla borsa e al Big Ben. Era in libertà vigilata dal dicembre del 2018. L'ISIS intanto rivendica l'attacco. Sentiamo. L'attentato di Londra è stato rivendicato dal sedicente Stato islamico, l'aggressore del London Bridge. Sarebbe dunque un combattente dell'ISIS, secondo l'agenzia AMAC, organo di propaganda dei gruppi jihadisti. E proprio sui trascorsi di Usman Khan, il ventontenne che ha ucciso due persone e ferendone altre tre, si è scatenata nel Regno Unito, in piena campagna elettorale, la polemica sulle scarcerazioni anticipate. L'uomo era stato infatti condannato per terrorismo nel 2012, ma era in libertà vigilata e partecipava ad un programma di riabilitazione di ex detenuti. Al momento dell'arresto Khan apparteneva ad una cellula ispirata da Al-Qaeda, smantellata, prima che riuscisse a compiere un attentato a ridosso del Natale del 2010. Nel Mirino c'erano la sede della Borsa, il Big Ben, l'abbazia di Westminster, l'ambasciata americana e la casa di Boris Johnson, all'epoca sindaco della capitale britannica. Un anno fa l'uomo era uscito di prigione e venerdì era stato invitato alla conferenza dell'Università di Cambridge sulla riabilitazione dei detenuti. Una delle sue vittime era proprio il coordinatore del programma di reinserimento. Usman Khan dopo l'attacco è fuggito sul ponte di Londra dove è stato bloccato da tre persone che l'hanno inseguito. Indossava un finto giubbotto esplosivo e quando la polizia è intervenuta un agente gli ha sparato uccidendolo nel timore che si facesse esplodere. La politica interna adesso, il meccanismo europeo di stabilità crea divisioni nel governo. Di Maio chiede di non firmare al buio e di modificarlo. Conte lunedì riferisce alla Camera e Salvini attacca, toglie ai poveri per dare ai ricchi. Deve dimettersi. Domani all'ora di cena il vertice di maggioranza decisivo. A Palazzo Chigi Giuseppe Conte dovrà tirare le somme e provare a sciogliere i nodi sul Messe. Il fondo salva stati. Il governo rischia? Il governo non rischia. Andrà avanti, ha assicurato oggi Conte, dopo la marcia indietro di Di Maio, mai detto di voler far cadere il governo. Domani sera, dunque, alla vigilia delle comunicazioni di Conte alle Camere, il momento in cui spazzeremo via chiacchiere e fesserie, dice Conte, è nel pieno delle fibrillazioni politiche. Con De Rio e Franceschini dal PD in pressing su Di Maio, perché sul Messe in queste ore ci giochiamo alla credibilità del Paese. Fonti europei fanno sapere che il rinvio dell'approvazione del fondo è possibile, ma non è nell'interesse dell'Italia. Ma non possiamo firmare al buio, replica Di Maio, che non arretra sulle modifiche da adottare per non piegarsi a qualche euro burocrate. Graziano De Rio si appella alla serietà e alla affidabilità per non provocare una crisi di credibilità per il Paese. Asprei dai toni salviniani, la risposta a 5 Stelle. La credibilità l'abbiamo persa in questi anni, firmando qualsiasi cosa per compiacere qualche burocrate. E proprio Salvini, stasera a Firenze per una cena elettorale, ha risposto così ai giornalisti che gli chiedevano conto di un possibile ritorno di fiamma con Di Maio. No, ha detto secco il capo della Lega. E' stato incriminato per omicidio l'imprenditore maltese Jorgen Fenech, accusato di aver organizzato l'assassinio della giornalista Daphne Caruana Galizia due anni fa con un'autobomba. A Fenech il tribunale di Lavalletta ha contestato i reati di cospirazione e complicità nell'omicidio e nell'acquisto degli esplosivi. Il giudice ha anche disposto il sequestro di beni immobili e immobili dell'imprenditore e ne ha sequestrato il passaporto. Intanto il premier Muscat, coinvolto nel caso, ha annunciato che si dimetterà a gennaio. Torniamo in Italia. L'inchiesta sull'omicidio di Luca Sacchi, ucciso a Roma lo scorso 23 ottobre, mentre si trovava davanti ad un pub con la fidanzata, spunta l'ipotesi di un terzo uomo. Secondo i PM potrebbe essere la persona che ha dato alla ragazza i 70.000 euro necessari per comprare la droga. Nel quadro fatto dagli inquirenti sull'omicidio di Luca Sacchi c'è un tassello che manca. C'è un altro nome da trovare, quello del finanziatore, la persona che avrebbe fornito ad Anastasia Chilhemnik 70.000 euro in mazzette da 20,50 per acquistare 15 kg di marijuana. Una compravendita saltata all'ultimo minuto perché Valerio Delgrosso e Paolo Pirino avrebbero deciso di non consegnare la partita di droga ma di rapinare Anastasia. Così le hanno strappato lo zenetto con i soldi ed hanno sparato a Luca Sacchi, morto con un colpo di pistola alla testa davanti al John Cabot Pub nel quartiere Appio Latino a Roma, nella notte tra il 23 e il 24 ottobre. Qualche risposta potrebbe arrivare dall'interrogatorio di Anastasia Chilhemnik, babysitter e fidanzata di Luca, che si terrà probabilmente mercoledì prossimo davanti al GIP che ha deciso per lei l'obbligo di firma. La ragazza è indagata per il tentativo di acquisto di stupefacenti. Chiara e preponderante scrivono gli inquirenti sull'ordinanza la sua volontà di preservare le relazioni criminali acquisite nel mondo della droga con il quale non intende recidere i legami. Anastasia verrà ascoltata solo dopo gli interrogatori di garanzia dei due arrestati che avrebbero avuto un ruolo chiave nella vicenda. Marcello De Propris, accusato di concorso in omicidio, avrebbe fornito a Del Grosso la pistola con la quale è stato ucciso Luca Sacchi. Giovanni Princi, pregiudicato e compagno di scuola del personal trainer, inserito secondo i magistrati stabilmente in contesti criminali, sarebbe stato lui, accusa la procura, a condurre la trattativa con i pusher per l'acquisto della marihuana. Siamo allo sport, urna benevola per la nostra nazionale, quella di Bucarest, da dove sono usciti i nomi delle prossime avversari agli europei del 2020. La squadra di Roberto Mancini affronterà la Svizzera, squadra con cui l'Italia può vantare 58 precedenti, poi la Turchia, miglior difesa in assoluto nelle qualificazioni unitamente al Belgio, e che annovera gli italiani Cialanoglu, Demiral e Under, e infine il Galles, la squadra di Gareth Bale e dello Juventino Ramsey. L'Italia giocherà i tre match del Girone allo Stadio Olimpico di Roma. E oggi per il calcio giocato erano in programma tre anticipi, vittorie per Atalanta e Torino, ma il colpo più grosso lo mette a segno il Lecce con la Fiorentina. Notte fonda con tre stop consecutivi per Montella e di suoi, Lecce in paradiso sempre più a suo agio, lontano dallo stadio della Via del Mare. Nel primo tempo le occasioni migliori sono della squadra viola, in ansia nel finale per l'infortunio alla caviglia destra o corso a Ribery. Il ricovero in ospedale per accertamenti. L'avvio di riprese è tutto giallorosso, dallo spunto di Farias, pallone a Shakov e Cross, che la Mantia schiaccia in rete di testa. L'Atalanta ha chiuso al meglio la settimana del primo storico successo in Champions, tornando alla vittoria in campionato. In casa del Brescia tutto facile per gli uomini di Gasperini, in vantaggio già prima della mezz'ora con il colpo di testa di Pasalic su Cross di Castagni. Nel momento migliore dei padroni di casa, traversa di Balotelli, i nerazzurri raddoppiano tiro a cross di Ilicic e tacco vincente di Pasalic. In pieno recupero il terzo gol dell'Atalanta, segnato in contropiede da Ilicic dopo un errore di martella. Il Torino si conferma squadra da trasferta e dopo Brescia va ad espugnare Marassi, Sponda Genoa. In casa del Rosso-Blu è la terza vittoria consecutiva per i Granata. Ha sofferto la formazione di Mazzarri, due legni, in un solo minuto per il Genoa, trafitto ad un quarto d'ora dal fisco finale dal colpo di testa di Bremer su angolo di Verdi. Fra i match di domani spiccano Juve-Sassuolo ed Interspal. Si chiude lunedì sera con Cagliari-Sampadoria. Grande giornata per lo sci azzurro in Coppa del Mondo nelle gare nordamericane. Dominic Paris conquista il secondo posto nella discesa libera di Lake Louise in Canada ad appena due centesimi dal vincitore, il tedesco Dressen. E nello slalom gigante di Killington negli Stati Uniti le azzurre sul podio sono addirittura due. Marta Bassino che vince la gara davanti a Federica Brignone. La 23enne piemontese Bassino, che era al comando dopo la prima mancia, si è confermata con 26 centesimi di vantaggio sulla compagna di squadra, conquistando così la prima vittoria in carriera. Per la Brignone invece si tratta del 29esimo podio in Coppa del Mondo. Al terzo posto la campionessa americana Michaela Schiffrin. Chiudiamo con la Formula 1. Ad Abu Dhabi nell'ultimo impegno della stagione, Hamilton è tornato a conquistare la pole position quattro mesi dopo il Gran Premio di Germania. La Mercedes ha confermato il suo grande feeling con questo circuito, dove vince ininterrottamente dalla stagione 2014. Il campione del mondo ha preceduto il compagno di squadra Bottas, ma in finlandese, che ha sostituito l'unità motrice della sua vettura, prenderà il via dal fondo dello schieramento. In prima fila quindi, al fianco di Hamilton, si schiererà Verstappen. Per la Ferrari, un'altra qualifica deludente. La strategia dei box non ha funzionato. Il Leclerc, terzo davanti a Vettel, non ha potuto sfruttare l'ultimo giro utile per migliorare la sua posizione. Ed era l'ultima notizia, l'informazione torna come sempre domattina alle 7 con la Rassegna Stampa. Grazie per essere stati con noi e buonanotte.